la situazione dell'artigianato lodigiano resta critica lo hanno confermato i vertici di conf artigianato nel secondo trimestre dell'anno si è registrato un calo del 2,1 per cento del numero di imprese attive sul territorio dati in profondo rosso soprattutto per il credito alle imprese da parte delle banche calato di ben il 19 per cento il peggiore in lombardia la ripresa continua a ritardare con unica eccezione per il settore dei servizi alla persona ha osservato mauro paranzi segretario della sede di lodi di conf artigianato le nostre imprese stanno guardando anche all'europa per riuscire a superare la crisi ha ribadito invece gloria ferrari presidente di conf artigianato un ruolo importante per la ripresa dovrà essere giocato dalle nuove camere di commercio dichiarato infine vittorio boselli segretario generale dell'associazione